Ma intanto io non vedo grandi elementi di novità rispetto al giorno in cui ci siamo incontrati qui l'ultima volta, cioè le operazioni continuano più o meno sulla falsariga della piega presa negli ultimi giorni. L'unico vero elemento sostanziale di novità credo sia avvenuto tra sabato e domenica ed è l'allungamento della tenaglia russa su Kiev che non è ancora totalmente accerchiata ma che adesso ha truppe russe sia ad est e ad ovest. Quindi praticamente il punto da cui si può uscire è più stretto. Questo è quanto. Tutto ciò lascia prevedere che i russi tenteranno di stringere da sedio la città in modo tale che anche coloro che vivono dentro a un certo punto comincino a manifestare una volontà di cedimento e la facciano pesare anche sul presidente Zelensky. Ma quando noi sentiamo dire che i russi sarebbero in affanno e che procedono faticosamente, non potrebbe invece essere proprio quella la strategia? Piano piano, piano piano. Ognuno ha sensazioni. Io da anni sono persuaso che la macchina militare russa, pur avendo delle nicchie di eccellenza, non possa paragonarsi qualitativamente alle nostre, meno che mai a quella americana. D'altra parte i livelli di differenza delle spese militari tra Stati Uniti e russi sono abissari. Però lì non si confrontano con gli americani ma con gli ucraini. No, appunto. Però noi siamo abituati a vedere la guerra all'americana, quindi con grande dispiegamento di risorse logistiche. E anche adesso, quando nelle trasmissioni ci fanno vedere i soldati americani che sono arrivati in Polonia e non sono lontani dal confine con l'Ucraina, vediamo una differenza enorme nelle dotazioni, persino nel look fisico con cui i soldati si presentano alle telecamere. Confrontiamoli con i coscritti che stanno combattendo in Ucraina per la federazione russa e vedete quanto è forte la differenza. Allora, tutto questo per dire che non possiamo aspettarci che la guerra condotta dai russi somigli in nulla alla guerra condotta dagli americani. L'esercito russo non è digitalizzato. Da quello che vediamo stiamo scoprendo che marciano con ordini di servizio scritti su carta. Forse anche per non farsi intercettare, ma molto più probabilmente perché appunto, a differenza anche di noi italiani che stiamo digitalizzando completamente le unità e mandiamo in giro per il mondo, loro sono indietro. Vediamo carri armatiche... E quindi potrebbe essere una strategia proprio quella di sfiancare il nemico o una necessità legata alle caratteristiche. Stanno conducendo la guerra nel modo in cui possono farla con il tipo di macchina militare che hanno. Volevo anche aggiungere un'altra cosa. Qualche giorno fa ho avuto uno scambio telefonico con un generale indiano che ho conosciuto a Bucarest durante una conferenza internazionale anni fa. non ci sentivamo da moltissimo. Lui mi chiedeva il punto di vista di un europeo, io gli ho chiesto un punto di vista professionale su quello che vedeva dei militari russi. E mi diceva esattamente queste cose. In più aggiungeva, guarda Germano, che i russi, le loro armi migliori, non le destinano al loro esercito, ma le vendono all'estero perché devono far soldi. Anche a noi indiani le vendono. Ed è una delle ragioni per cui l'India, per esempio, nello schierarsi in questa guerra, non può seguire fino in fondo altri paesi che sono invece molto più esposti in favore dell'Ucraina. Io ho trovato tutto questo estamente interessante. Ci sono state interlocuzioni con l'amministrazione dell'Ucraina. Ma comunque abbiamo visto Zelensky come fa. Ringrazia anticipatamente per scelte future. Si augura che quello possa seguire. Molto spesso i suoi ringraziamenti sono auspici che tendono poi a concretizzarsi. Diciamo che d'altro conto qualche ragione ce l'ha considerato che gli sparano pure sui corridoi umanitari. A questo proposito, adesso che notizie abbiamo? Voglio dire, è tutto normale. No, no. Che voglio dire, ognuno quando è in guerra fa tutto ciò che è in suo potere. E non c'è dubbio che la comunicazione è uno degli strumenti. La strategia ucraina è chiarissima. Da un lato disperdere uomini sul terreno e colpire con armi contro carro e antiaeree gli invasori russi. Dall'altro portare dal proprio lato l'opinione pubblica mondiale. Perché senza l'aiuto del mondo l'Ucraina non vince. Ripetisco, io quando vedo quelli che dovrebbero essere i corridoi umanitari e vedo le persone a terra perché colpite dai mortai, non faccio troppa fatica a capire qual è lo stato dell'arte. Anche perché i corridoi umanitari, e questa è l'unica cosa su cui parte russa e parte ucraina sono concordi, non stanno funzionando e non hanno funzionato. La Russia